musica 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 e dai dai fermi che non c'ho la dittichia porciana no per iphone no non ho preso la rpg musica io ho kc scusate il tb io fra 2 ore dentro io giugiate 4 si kvc mancano 10 secondi no forse sto entrando 2 secondi 4 secondi no ci sono dove vado io vai dietro la casettina di b vai dietro la casettina di b mi ne copre e copre il lungo gioco un po' a n quale il di quale Vabbè, questo fatto... vabbè. Ci sono due sotto... Uno ha lanciato un HB. Morto... No, i tantissimi... Uno morto in B. Ah, c'è uno fu braccato di B. L'obiettivo bravo è stato appena perso. Largo Civo, non l'avevo visto. L'altro down largo. Uno sotto la casa di Gernan. È andato in cap. Morto quello in Tic, uno cacetta in B. Io sono sul Tic di B, eh? Down, 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 non lo faccio. No. Down, devo un po' di quello down. Morto. Non c'è il resto. Non c'è quello cacetta in B. C'è un altro morto cacetta in B. Alla, ora. Un altro in cap. È andato uno in cap, non mi viene a prendere. Sì, sì, sì. Solo che mi viene a prendere l'ho fatto. Ce n'è uno in cap. Ce n'è uno in cap, ha fatto nade. No, ce n'è uno alto. Orca troia mi ha fatto. Io se sono morto. Alto su C. Vai verso O, vai verso O. Down in bagliera. Ok. E sono tre su C. Due spuntanti lag su C. Due spuntanti lag su C. Me l'ho bloccato il cap. Quello che è in B. Vai su A. Andate su A, rega. Torala, loot. Aspetta, aspetta. Siamo spuntati in mapa. Ok. Abbiamo un B. Ok. Uno down, c'è un altro. C'è un cap di F. Vai, vai, vado tetto io. Due down, c'è un terzo. Sono quattro qui, eh. Morto quello largo. Sì, morto quello. Rag vai bloccata. Non li vedo. Si restano. Largo B uno. Morto largo B. Sto cappando. Io spareranno. Almeno. Nooo. Sono caduto dal tetto di B. Sono caduto dal tetto di B. Vabbè. Porto quello largo. Mi faccio esplodere la casetta io. Ti copro io se ti salgo da sotto, Kerna. Sei tranquillo. Tu non morire. Tu non morire. No, 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 no. Contener blu è morto. Certo. L'ho ucciso uno. Forse ce ne sono due. Alfa. Due alfa. Due alfa. Uno down. Uno in casa. Sono gioco al C. Eh, no. Niente in casa. È lì all'angoletto fra la casa dove si può cappare. Mi fa il giro quello in C. Perfetto io. È dentro la casa. Stato, stato in C. Un due alfa, eh. No, scusami. Un cuore se c'è. Eh, scusa. Non l'avevo visto. Io. Prendeteci. No, no, no. No. Grazie. Ti vede? Prendo alfa con Gemini. Sanno che fanno qua, eh. Sono in due, forse. Cazzo, chiariamo, dai. Vai, tappo. Dove, dove? Sto lanciando. Dimmi dove, Gemini. Eh, eh. Eh, eh. Mi ha fatto. È morto uno in C, c'è un'altra. È morto, un'altra in C. Di merda ho tirato. È casa? Non l'ha visto che suona. Uno down nell'angolo, c'è ancora un altro. È loissimo. Casa? Fuori, fuori, fuori. Morto, fuori. Bene, era lui. Era lui. Kc. Eh? Allora, uno in casetta piccola e uno... Alto sulla casa via. Morti due casetta piccola. Perfetto, c'è stato uno alto sulla casa via. Come siete messi su piedi, raga? Eh, la prendiamo. Sto tappando. Ne ho uccisi due in casetta. Prendete casetta. Prendete casetta. Arrivano, fuori casetta, arrivano. Sono spannati in C, sono spannati in C. Sono spannati in C. Eh, uno fuori casetta, uno dentro casetta. Cinque limita in C. Ma mi uccidono in B. Uno casetta, uno container blu. Ancora flag. Dovete prendere subito casetta, ragazzi. Prende uno che... Ah, è incatissimo. Lì è perso. Bella. Uno random. Due ultimi. Eh, non ti vedo io. Tanto di altro in casa. Morti. Uno mid. Eh, c'è un altro in B. Sono due in casa di A, ragazzi. Sono due in casa di up, sale. Uno in casa. Uno salito. No, non è morto. Uno in casa. Uno... Guardate, alfa di A. Sì, sì. Eh, sono spannato. Bomber arriva. Te ne ho uno, ma... No, è incatissimo. T'arriva, 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 t'arriva. Andiamo, loader, andiamo, andiamo. No, mi sa che c'è il loro, ragazzo. Detto di A, ragazzi. Detto di A, ragazzi. Porto, detto quello di Alfa. Alfa, alfa, arrivo. Porto quello che gira in A. Non so quanti sono in C, però, raga. Ce n'è uno solo in A. Col silenziatore. Non è spottato. Ha arrestato il compagno. C'è uno in due. Due in C, due in C. Prendiamo C e B. Prendiamo C. Prendiamo C. Arriva uno, su. T'arriva, non ha spottato uno. E' down, è down. Uno, uno, loaderato. Sono tre in alfa. Mi ha seduto uno sulla casa mia. Due down. In alfa, sono però uno. Merda, merda, merda. Ancora due in... Uno già sta girando per il cielo. Morto quello che girava. Bella. Sto uccendo io, allora. Le sento altri, Fede. Sotto casa mia, Fede. E la gente... Ho capito, ci stanno andando. Morto uno. Si stanno in fronte, Fede. Sono tutti sotto casa mia. Eccolo lì. Sì. Una anche sopra, mi sa. Una è sopra una casa, anche. Vai, lascialo lì. Eh, va bene. Sì, sul tetto. C'è ragione. Non lo vedo, però, da dove sono. E' stato dal tetto mio. Non controlliamo più l'obiettivo. Morto quello tetto. Mi sta bloccando il cap. Mi sta bloccando il cap. Allora, ti do una mano dal tetto. E' dall'altra. Morto. Tra un'altra, contiene il palo. Morto. forcesi. No, non vorrei purposesi. Comune. Morto no call. Non ti do una volta. Avno, ninja, sicuramente. La ragazzina. Doroto ha la grande galera, adesso. Si. Si, si... Pronto uno. E' morto, morto, morto. Porto un altro. bastante. ci sc True contre M gerade, eh. Porto l'altro. Sc futtati ulti ancora. Porto l'altro. C'è un altro ancora Morto l'altro Sono finiti credo No uno in cap Uno in alfa Ce la fate a pulire Morto ci sono restati Morto Guardiamo in alfa pulita Ok ci pulite La capi? Mi rossi C'è un altro alfa Sponano qua Sponano qua No li viena a prendere No è merda Una mid Un altro Io allargo di C Morto un in cap Morto di te carna Potemere gialli Una sotto casa tua Lo sto tenendo fermo Però uccidimelo Hittato Hittato Sotto L'ho vista L'ho vista L'ho hittato anch'io L'ho portato C C C Rega In C C No 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 è dan Morto 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 Porco 2 Pensavo in C In flag Mi sei sposto Un altro spottato Un altro spottato Ti prendo tetti di C Arriva uno su C Uno va su alto su C Uno va su alto su C Ti arriva Brambi Antena gialli Vabbè che culo Casetta di C2 Sbagliato Cazzo Arriva uno largo subito Uno entra in alfa Lo sento quando lo vedo Il canzelli Il canzelli Subì Guarda Un altro L'ho vista Un altro Eh Marciottato No L'ho hittato L'ho hittato Sopra casa comando Sopra casa comando Contenna il blu Subì Ne arriva uno Da dietro i muri Sono random Fucillo Sono su di me? Sì, siamo in C tutti più o meno. Sono su carne io. Non è morto. È pochissima. Sono due però. No, è una, ok. No, era lui. Obiettivo bravo, neutralizzato. Sta prendendo C. Rimani in cap, rimani in cap. Sì. Ma cosa me l'han detto? Allargatevi già su carran. Eh, è stato lì in mezzo. Guardate uno in cap su C. Due in cap su C. Tutti su C. Guarda uno. Guarda di te carran. Ho qualcun altro in cap su C, c'è un altro in C. È in carran. Mi viene a prendere, mi viene a prendere. Eh, io da questo punto non lo vedo. Sì. Sono due fuori. Sono due. Abbiamo A e C. È la K and A? Alfa, lampeggio. Guarda C. Porto uno su A, c'è un altro. Brambi. Un altro su una casa di C. E uno sta arrivando su C. D'ammittante. No. Dobbiamo prendere in passaggio. Uno down. Scampeggio patteneci. Morti 2 in C. In B. No, l'avevo ucciso!